Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, video in collaborazione con Marchese Bianconero infatti prima di iniziare vi invito a vedere gli altri, sono quattro video, quindi tutti e quattro i video dei top flop di questo 2020, abbiamo fatto i top Juve, flop Juve, top calcio mondiale, flop calcio mondiale vi invito ovviamente a andarli a vedere tutti e quattro, due sul mio e due sul suo canale bene, questo video parlerà del flop della Juve del 2020 e abbiamo scelto questi personalmente reputo uno dei momenti più bassi del 2020 della Juventus, l'eliminazione della Champions League a cura del Lione, perché penso che per il secondo anno consecutivo si sia fatto male ma si riuscite a fare anche peggio di quanto ho fatto l'anno prima, che comunque ha ottenuto un quarto di finale, un'uscita del quarto di finale non gli ottavi, una squadra come la Juventus Stari molto forte, secondo me che aveva tutte le carte in regola perlomeno per superare quegli ottavi di finale, ma il discorso era già compromesso secondo me l'andata, poi c'è stato il discorso Covid con il lockdown e il ritorno è stato chiaramente un ritorno così è andato così, penso che però comunque che è già l'andata, si era compromesso la situazione è stato sicuramente un momento bruttissimo perché la Juventus è una Juventus che deve sempre ambire perlomeno il raggiungimento dei quarti finali e tutto ciò che sta dietro è un fallimento quindi il fallimento europeo è dettato da questa partita contro Lione e così prendiamo atto di quanto è successo chiaramente lo mettiamo tra questi 5 flop 5 della Juventus 2020 abbiamo messo il ricorso Napoli, non tanto perché il ricorso Napoli sia un flop solo della Juve ma credo che la vittoria del ricorso Napoli al Coni sia una sconfitta per il mondo del calcio in questi giorni stanno purtroppo venendo fuori altri positivi in altre squadre mi viene in mente il Frosinone che ha tanti positivi ho paura che questa decisione rovinerà un po' il calcio italiano è stata una vera e propria porcata diciamocela apertamente e ci va di mezzo il calcio pulito, quello onesto quello che aveva firmato il protocollo e che poteva assolutamente completare secondo me con un'azione di giustizia andando 3-0 la Juve anzi secondo me aumentando pure i punti di penalizzazione per il Napoli perché era chiaro a tutti la furbata è chiaro a tutti tranne al Coni ma questo poi è un discorso che va fatto in un'altra serie sicuramente uno dei momenti flop non solo della Juve l'abbiamo messo nel flop Juve ma credo che sia uno dei momenti più bassi della storia del calcio italiano se nella top 5 ho messo una partita, una vittoria importantissima al campo no per 3-0 questa volta devo mettere sempre un 3-0 ma contro di noi quindi una sconfitta per 3-0 nella sconfitta finale di questo 2020 Juventus-Furentina 0-3 la Juventus perde contro una Fiorentina la peggiore Fiorentina degli ultimi anni perdiamo al di là di tutte le polemiche di questo e quell'altro ma perdiamo è sicuramente una grande delusione è delusione anche perché arriva in un contesto importante come quello di Natale che ci rovina un po' il clima pre-natalizio e dobbiamo aspettare chiaramente il nuovo anno con il 3 gennaio per la prossima partita per ritrovare un po' di gioia e di entusiasmo quindi sicuramente questa partita per tutto ciò che è stato al di là di tutti i fattori tutti i fattori di questa partita sono sicuramente poco congeniali a ricordare questa partita come un buon momento è sicuramente uno dei peggiori momenti di questo 2020 per la Juventus altro flop che abbiamo scelto è stata la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli flop non solo per il risultato finale che ha visto il Napoli vincere ai calci di rigore quanto per tutto l'insieme è vero si tornava a giocare dopo mesi di stop ma quello che abbiamo visto sinceramente è stato uno spettacolo veramente orrendo una Juve che non è mai riuscita a giocare ha rischiato di perdere nei 90 minuti assolutamente e poi è sinceramente la lotteria di rigori con gli errori sui primi due rigori di Di Bale e Danilo a spianare la strada al Napoli è una Juve orrenda una Juve che secondo me è stata proprio poco positiva in tutto l'anno ma quella partita lì, io ci metto anche la semifinale con il Milan quelle due partite hanno evidenziato quanti problemi avesse quella squadra è stata una bella delusione diciamolo quindi sicuramente meritava di essere messa in questa flop 5 spesso intorno a Juventus, quando si parla di Juventus ci sono sempre delle polemiche polemiche che spesso vengono ingigantite dai media da diversi attori e fattori e questa volta chiaramente non posso non mettere tutta la polemica intorno a Suarez del passaporto falso e così via perché penso che la Juventus sia entrata purtroppo in un loop a livello mediatico difficile dalla quale è difficile togliarsi a prescindere dalle colpevolezze o tali però come sappiamo quando viene accostata la Juventus qualcosa di poco chiaro scandaloso di per sé la Juventus viene ben macchiata anche quando in realtà macchiata non dovrebbe essere perché poi alla fine spesso una parte di queste cose si chiudono con nulla di niente con un rifatto o con altri attori e fattori appunto che sono colpevoli di cui appunto la Juventus poi diventa o parte lese o quant'altro ecco però alla fine al di là di tutto ciò che poi si sentenzia la Juventus è colpevole quindi ogni polemica quando riguarda Juventus viene trattata male dal punto di vista immediato e può cercare di avere un po' un consenso diciamo così quindi è sicuramente un momento brutto di per sé perché la gravità della storia potrebbe essere importante cioè comunque si parla di un tentativo di qualcuno non si può capire di chi di raggirare un po' le normative però Juventus a prescindere a tutto ne resterà macchiata purtroppo volenti o non volenti e questo sicuramente è un momento brutti pessimi del fine calcio mercato estivo da Juventus bene ragazzi questi erano i 5 momenti della nostra flop 5 chiamiamola così con i 5 momenti flop della Juve per il 2020 a me non resta che salutarvi e invitarvi ancora a vedere gli altri 3 video oltre questo sulla top Juve top calcio mondiale e flop calcio mondiale a prossimi video ciao